Ressi pari sull'art.com, Lorenzo Quint, ma cosa muove la tua ricerca e cosa fai per mantenere viva l'ispirazione? Ma io cerco sempre di unire le persone, trovare un nesso che è un comune a tutti. Quindi parlo della vita, parlo dell'amore e anche della morte. Parlo della grandezza omara, qui per esempio rappresentata tra queste grandi anime famose che hanno reso famosa Venezia nel mondo. C'è stata un'esperienza, un momento che ha dato una direzione importante al tuo percorso artistico? Sei uguale? No, tutti i giorni sono importanti, tutti i giorni della nostra vita sono importantissimi. Bisogna vivere come se fosse l'ultimo giorno, per sempre. Come hai fatto ad emergere? Cosa consiglieresti a un giovane artista? Tanto lavoro, tanta pazienza, credere in se stessi. Bisogna credere in se stessi e andare avanti. Io sono 35 anni vicino a Borlo e continuo a lavorarci e continuerò a lavorare fino alla morte. Non si arriva mai. Parli sono i tuoi artisti preferiti o che ti ispirano? Sì, io mi ispiro ai grandi artisti del passato, che hanno un grande senso, un grande coraggio, una grande maestria, un grande conoscimento. Non so, non so, trasmetteranno bellezza, armonia, Michelangelo, Bernini, Carpò, Peroderno. Ora credo che la gente, gli artisti, si scurrano più in cercare di provocare. Mi spiace perché manca un po' la ricerca della bellezza. Invece credo che l'arte sia anche quello, sia armonia, bellezza. Quindi non c'è nessun artista contemporaneo anche che ti piace seguire o ti interessa vedere il suo percorso? Ce ne sono alcuni, anche meno conosciuti, ce ne sono. Sipario sul progetto artistico, quale ruolo credi debba avere l'arte nell'affrontare questioni sociali, politiche e esistenziali? Io ho fatto spesso opere di un peso sociale importante, partendo dalla scultura Support qui a Venezia, che parlava proprio del campo climatico e questa mostra anche uno sfondo sullo stesso cambio climatico. L'ultimo messaggio del gondoliere è proprio quello, che se proteggiamo Venezia, proteggiamo il mondo. Quindi pensi che l'arte abbia il potere di influenzare il reale cambiamento? Beh, io spero che lo abbia. Come per dare lo sguardo di chi osserva e influisce nella fase creativa e poi sulla ricezione del tuo messaggio? No, io non creo tanto pensando a quello che pensarà la gente. Creo le cose che io voglio comunicare. Comunico con delle immagini, con delle opere fisiche. Queste sono le prime volte che faccio arte digitale. Quindi vediamo, sono qui che aspetto a vedere il risultato. Si pare sull'arte, parto dal generico. Cos'è l'arte per te? L'arte vita, l'arte armonia, l'arte emozione. Chi decide oggi cos'è l'arte? Chi decide? Non saprei rispondere perché qualsiasi cosa, sempre qualsiasi cosa possa essere arte. Cosa ne pensi dell'interazione, e qui fagiolo, tra arte tradizionale e nuove media, nuove tecnologie? Cioè, che tipo di sfide, opportunità o criticità prevedi? Eh, credo che è un periodo, un momento molto interessante nella storia dell'arte. Ci sono tante opportunità per provare cose nuove. Ma non siamo i primi. Leonardo stesso è un grande creatore, inventore, e continuiamo nella sua strada. Un'idea sull'intelligenza artificiale? Una tua idea? Se si usa come appoggio, può essere molto interessante. Se si usa per sostituire la creatività, è molto pericoloso. Perfetto. Grazie mille. Grazie mille.